A quanto ci risulta siamo il primo paese dell'Unione Europea in particolare che adotta una misura cautelativa di questo genere. Continueremo a seguire con il massimo dispendio di energie e di risorse per assicurare l'indiprotezione a tutti i cittadini. Quando uscite da casa dovete stare a due metri di distanza uno dall'altro. Quando uscite da casa dovete rimanere a due metri di distanza uno dall'altro. Se non ne siete capaci rimanete a casa. Se non ne siete capaci rimanete a casa. Io resto a casa altrimenti verrò io da voi. L'Italia è in questo momento il paese col più alto livello di salvaguardia, di sorveglianza. Credo che questa sia la linea giusta. Dobbiamo continuare su questo terreno. Grazie. C'è un criterio di proporzionalità e adeguatezza delle misure. Se si va oltre si fa un danno alla stessa comunità dell'italiano. Ah ok scusa scusa a volte confondo le porte. A volte confondo le porte ma in ogni caso dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa, tutti a qualcosa per il bene dell'Italia. Ciò nonostante non ingozzatevi, tenetevi in forma, mangiate sano e non rompete il cuore. Shamanic combat. Shamanic combat